ragazzi come sapete ormai tra me e lei è nata un'amicizia assurda clamorosa ci siamo trovati per caso ma veramente siamo molto uniti ci troviamo bene con le nostre idee con le sue idee con le idee di ciccio gamer con le idee di dexter no a parte gli scherzi ci troviamo bene abbiamo iniziato questa carriera cop insieme trovate il primo episodio sul suo canale prossimo episodio ragazzi metterò le facecam un po più piccole cioè me ne sono accorto dopo in fase di montaggio spero che l'episodio vi sia piaciuto buona visione e alla prossima ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video cioè o meglio video per noi che siamo su youtube ma video normale in live per chi è su twitch sì perché noi abbiamo aperto un canale twitch come già sapete dove trovate il link in descrizione streammiamo la stagione cop con leo di futitalia channel saluta ciao a tutti ragazzi ok ragazzi il primo episodio è uscito sul suo canale quindi andate in descrizione trovate il link del suo primo video facciamo il secondo ecco facciamo il secondo sul mio col belgio il primo è stato con la juventus quindi direi di andare a fare la squadra utilizzeremo il 4 2 3 1 no il 4 3 2 1 che è il modulo che ci stiamo trovando bene un po tutti sia io che lui quindi punta centrale lukaku perfetto poi a sinistra zard a destra metterei mertens poi centrocampista davanti la difesa felleni anzi no dembélé a sinistra vitzel a destra kevin de bruy mamma che squadrone e poi a sinistra munier a destra diciamo a destra munier facciamo così a sinistra vertogen perché piede sinistro quindi magari può giocare lì centrali underweider e compagni in porta courtois quindi underweider non lo so come si dice bende che ce lo portiamo in panchina anzi sì no non ce lo portiamo abbiamo già baciuà e azarte si portiamo anche miraias abbiamo anche ferreira carrasco quindi una bella squadra e quindi andiamoci a cercare il primo avversario dai così si comincia allora io che colore sono io sono blu si oddio ma non si può ma non si può che schifo ma che fisico lunini che fatica altro che che fisico buono ma vabbè valevo se il culo tira ma nooo va nooo vabbè tipo in shot mentre altro fai così ma no company a 12 di passaggio però Guarda chi era questo stronzo Che teneva in gioco Ibrahimovic Dai chi era quel crepino Leo dopo che ci hanno fatto questo goal Dobbiamo vincere almeno 3 a 1 Guarda fanno anche di stare zitto Vabbè dai Iniziamo Vai Senza pietà No ma che paura Vabbè vabbè 1 a 0 Facciamo un game Faccio il cambio tattico Entra Ferreira Carrasco Pro player Per Mertens Ok vai E' entrata anche Fellini Bella Vai Vai Lukaku Mamma mia E andiamo così Periranno Periranno Per questo Andiamo Ah non vi abbiamo detto ragazzi Che in media 3 partita d'episodio Circa Vai Madonna che culo Che culo Tira E andiamo Perirete Perirete per quello che ci avete fatto prima Go Voli No Ma vai Fellini 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 Sì Tacco il tacco Bellissimo Bellissimo Poveri ragazzi Vai Ok Buona la prima ragazzi Sotto con la seconda Forza 3 a 1 contro United Molto agguerrito Molto schillato Vabbè staremo qui Ah c'è solo uno che C'è quello che prova a riconquistare Palla con Ronaldo Da solo Facciamo il gol sicurezza Lei un attimo Sicurezza No Anche quello il portiere Lo controlla da solo Perché Ma perché Questo deve giocare pure da solo Quello è il bello Sto morendo Dalle risate Vai Vai così Vai Lukaku Lukaku Vabbè non si esulta neanche Un handicap match questa Questo fa la stagione cop con due profili Con due playstation Quinta Dai che la prendiamo No Carinthe Dream Carinthe Dream no Carinthe Dream Bravo Curtura Figore No Io sto premendo X No Io pariamo No Non è deciso di Stratto Ma perché Ma no Sto premendo X Un quadrato L'ho scappato L'ho paraglielo Tira a destra No Che culo Quanti tiri abbiamo fatto un casino Allora fanno il primo tiro di sonno a tempo Guarda Che ti ho detto No vabbè Che gioco di merda Così a casa Che gioco di merda Non ci posso credere Cioè è proprio scritto Ma non c'è vero No vabbè Ma che è leonava che fa schifo Io non ci posso credere Ma ovunque FIFA è così Guarda Ma cos'è È ovunque FIFA È ovunque così Se sono ultime team Dai lo segna Dai Che carà No non ci credi Merda Eh Rigore Meno male Meno male Almeno mi sono preso sto rigore Ma mo lo sbagliamo Sicuro Cioè Certo Se veramente FIFA Sì se veramente FIFA ha deciso così Io sbagliamo Eh Tiri tu Ma guarda che era lì lì Grande Leo Grande Però va bene Va bene Va bene Punizione e rigori Tiri tutto tu Va bene Ok Oh ma che Ah United di nuovo in questa terza Ok Eh Così da di prima io Eh ho visto Cioè quello che faceva le play soon Strasarli sempre Guarda Giocaori di merda Non c'era più in questa squadra il cavo Non è cesso Ah Yannick Yannick Ferreira Carrasco Yannick Ferreira Carrasco Rientra Rientra Yannick Il tiro Rientra Goal stupendo Goal stupendo Carrasco I giocatori Sicuramente non hanno fatto nemmeno la formazione Non lo so se le c'è Eh ma Ibra c'è sempre Cioè Ecco No Non ci credo No non ci credo No vabbè Eh Andiamo via Ci stiamo anche giù Ci stiamo a fare qua Che cosa fa gol così Dopo Poi noi ci hanno fiscato un fallo Guarda Guarda Compari che poi si ferma Come aver fatto la cazzata Si ferma No Non ci posso credere C'è anche il tempo ora Solo Mannaggia E' ilissimo E' in croce E dai così E' consigliato E' in croce Bella Bella tre anni mi fa un movimento oddio è svenuto addio tibia bravissimo la qualità vai ci sono jannik se ne va in mezzo per lukachino ancora in mezzo e tira 3 a 1 che gol brutta no il nostro giocatore sarà oddio oddio non è fuoco? che cosa è successo? non lo so mira di imparvi guarda col tuo armi sembra aver ripetito la palla tutto accoccolato si va bene contiamo bel gol wow vai iniziamo a giocare pure noi volente nooo stupido non è come forse perché l'ha passata lui forse perché l'ha passata lui non è fuori gioco non è fuori gioco non è fuori gioco non è fuori gioco stavo già ammazzando di imparvi perché l'ha presa si la sto casando a mazzello lì l'ha fuori gioco non è fuori gioco non è fuori gioco non era mai rigore non è valutato da sotto perché il tiro è sempre gioco basta mi sta cofitta mi chiede mi chiede mi sto scherzando guarda bella lì guarda 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 ovviamente gli rimane a lui e mo basta e vai così e andiamo lucacone 2 a 2 vai si così i gol di merda che ci piace non state in belli e vabbè siamo altissimo e si va a vincere è così 3 su 4 è un pareggio è la grande imbattuti oggi quindi ragazzi il video può finire qui vi ricordo di passare dal canale di Leo dal canale di Twitch dal canale di Ciccio Gamer e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi